Gli scontri di Firenze testimoniano ancora una volta la efficienza delle nostre forze dell'ordine e io ringrazio in primo luogo i ragazzi che sono rimasti in un qualche modo contusi in questa protesta. Coloro i quali hanno protestato non facevano riferimento all'articolo della Costituzione sulla libera manifestazione del pensiero, secondo me, perché volevano e potevano fare dei danni alla città di Firenze. Noi lo abbiamo impedito e credo proprio che le nostre forze dell'ordine ancora una volta meritino un grande ringraziamento. Ho già fatto pervenire al capo della polizia la mia vicinanza, fortunatamente non si tratta di gravi contusioni, però di certo c'è che questa è la prova di un clima che lì si è realizzato e che ha portato alcuni agenti a rimanere feriti.